Vuoi imparare l'inglese ma non l'hai mai studiato? Ti piace viaggiare e vorresti interagire con le persone che incontri? Ti piacerebbe mantenere contatti e amicizie con persone di altri paesi? Non è difficile, ci vogliono solo un po' di tempo e un po' di pazienza. Spero proprio che questi video ti possano essere d'aiuto. Prima di cominciare è utile condividere alcune considerazioni. L'inglese che si parla oggi ha infatti antiche origini germaniche ma è stato anche influenzato nel suo sviluppo dal francese e dal latino. Infatti, quando nel 410 d.C. le legioni romane si ritirarono, le tribù anglosassoni cominciarono ad invadere quella che allora si chiamava Britannia. Tuttavia il latino, cioè la lingua dei conquistatori romani, non se ne va con il ritiro delle legioni ma ritorna in Britannia con la predicazione del cristianesimo. Oltre a questi due aspetti, nel 799 cominciano le invasioni scandinave da parte dei danesi e dei vichinghi. Infine, nel 1066, i normanni conquistano la Britannia, impongono il sistema feudale e la loro lingua. Si parla quindi francese a corte e latino in tutti i documenti ufficiali e scritti, mentre i popoli conquistati continuano ad utilizzare il Middle English, cioè l'inglese successivo alla conquista normanna. Da dove arriva quindi l'inglese? Nel 1500, con i suoi letterati, drammaturghi e scrittori, primo fra tutti Shakespeare, l'inglese si arricchisce di termini ed espressioni nuove e con il successivo sviluppo delle scienze acquisisce infine la struttura chiara e lineare che lo caratterizza. E oggi? Qual è la situazione dell'inglese odierno? Come sappiamo, dopo la corsa alla conquista delle colonie da parte degli stati europei, l'Inghilterra governa un vero e proprio impero. Così, dal Canada all'India, all'Australia alla Nuova Zelanda, passando per alcuni paesi dell'Africa, l'inglese è diventato la nuova lingua imposta dai colonizzatori. Una volta ottenuta l'indipendenza, questi paesi hanno mantenuto l'inglese come lingua ufficiale. Ovviamente, le peculiarità di ciascun paese hanno determinato lo sviluppo di espressioni locali, legate ad aspetti tipici di quel luogo. L'inglese americano, quello britannico e quello australiano sono gli esempi più evidenti di questa differenziazione. Dobbiamo preoccuparci di questo? Ovviamente no. L'aspetto più importante per noi è quello comunicativo. Nessun imbarazzo per l'accento, perché ogni paese è il suo, o per eventuali errori di grammatica. Il nostro obiettivo principale è comunicare in modo efficace. Alcuni errori da evitare. Innanzitutto, una lingua straniera non è l'italiano con altre parole. Utilizza quindi le strutture che ti vengono proposte dai testi e dagli insegnanti. Accetta che non sempre ci sia l'equivalente esatto della parola o dell'espressione che vorresti tanto utilizzare. Non tradurre mai dall'italiano per esprimerti in un'altra lingua è difficilissimo e il risultato è spesso surreale. Sii paziente, per esprimersi al meglio ci vuole un po' di tempo. Abituati alle serie tv, ai film e ai documentari in lingua originale, lo so, all'inizio può essere frustrante, ma ti accorgerai presto di quanto ti è utile. Cominciamo con salutare e con l'ora. Pronti? Ready? Bene, cominciamo allora. Well, let's start then. How to greet people. Come salutare? 9 in the morning. 9am. Good morning, Tom. 4 in the afternoon. 4pm. Good afternoon, Tom. Curiosità e i numeri da 1 a 12. Che cosa significa am? Significa ante meridiem, cioè prima del mezzogiorno ed è un'espressione latina rimasta in uso. Così anche pm che significa dopo il mezzogiorno dal latino post meridiem. I numeri che ti servono per l'ora sono quelli da 1 a 12. Ascolta e leggi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, Ascolta e ripeti. Ascolta e ripeti. Posso chiederti l'ora adesso. What time is it, please? It's 9am. What time is it, please? It's 4pm. What time is it, please? It's 7pm. Caspita, si è fatto tardi. Sono stanca. Buonanotte, a domani. It's late. I'm tired. Good night. See you tomorrow. Grammar tips. Verbo to be. Essere. Hai visto? Facile. In questo caso le uniche differenze sono alla prima e alla terza persona singolare. Ricorda però che questa è la forma estesa, tipica dell'inglese scritto. Nell'inglese parlato, invece, si usa la forma contratta. Se il tuo obiettivo è la comunicazione quotidiana per lavoro o turismo, ti conviene fare l'abitudine alla pronuncia della forma contratta. Ascolta. Un'ultima cosa. Quando incontro una persona che non conosco, come la saluto? Ricorda che mister è rivolto ad un uomo. Mrs. ad una donna sposata. Miss ad una donna nubile. Ricordi i saluti a Tom? Ora diventano... At nine in the morning. Nine a.m. Good morning, Mr. Smith. Four in the afternoon. Four p.m. Good afternoon, Mrs. Johnson. Seven in the evening. Seven p.m. Good evening, Miss Fisher. Dagli anni cinquanta, in segno di rispetto, per non indicare se è una donna inubile vedova o sposata, si è iniziato ad usare Miss. Quindi Miss o Miss. Dipende dal contesto e dalle situazioni. Al lavoro, quando ci si rivolge ad una donna sposata o in una posizione di autorità rispetto alla nostra, usate sempre Mrs. insieme al suo cognome e, come sempre, aspettate per il suo invito a darle del tu. Per esempio, Mrs. Sullivan is a great supervisor. Riepiloghiamo. L'ora. Per chiedere l'ora si dice, what time is it? Per dire l'ora, per esempio, it's seven a.m. Osserva, nella metà destra dell'orologio, i minuti sono seguiti da past, cioè dopo le, o passate le. Nella metà sinistra dell'orologio si usa tu, quindi alle. It's five past, oppure it's five to. Sono passati cinque minuti dopo le, o mancano cinque minuti a. Quando l'ora è giusta, si dice o'clock, che sta per off the clock, cioè dell'orologio. E l'una, it's one o'clock. Sono le due, it's two o'clock, per esempio. Riepiloghiamo come salutare. Good morning, Tom. Good afternoon, Mrs. Johnson. Good evening, Ms. Fisher. Good night, Ms. Sullivan. Quando incontriamo un amico o un'amica, possiamo usare un saluto informale. Hello, oppure hi. Quando ci dobbiamo lasciare, usiamo sempre goodbye, oppure bye bye. Grazie. Grazie. Riepiloghiamo. Per chiedere l'ora si dice, what time is it? Per dire l'ora, per esempio, it's seven a.m. Qui di fianco, la lettura dell'ora in dettaglio. Osserva, nella metà destra dell'orologio, i minuti sono seguiti da past, cioè dopo le, o passate le. Nella metà sinistra dell'orologio si usa to, quindi alle. It's five past, oppure it's five to. Sono passati cinque minuti dopo le, o mancano cinque minuti a. Quando l'ora è giusta, si dice o'clock, che sta per off the clock, cioè dell'orologio. E l'una, it's one o'clock. Sono le due, it's two o'clock, per esempio. Riepiloghiamo come salutare. Good morning, Tom. Good afternoon, Mrs. Johnson. Good evening, Miss Fisher. Good night, Miss Sullivan. Quando incontriamo un amico o un'amica, possiamo usare un saluto informale. Hello, oppure hi. Quando ci dobbiamo lasciare, usiamo sempre goodbye, oppure bye bye. 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 Grazie.